Musica Detto che è grande volevo fare la scrittrice è perché mi piace moltissimo ma anche fare il Presidente niente male, non è? Però voglio essere sempre giusta con il mio popolo For the first time I wondered whether freedom and democracy may not be the reality in which we lived but a mysterious future condition about which I knew very little My grandmother always said that when we don't know how to think about the future we must turn to the past 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 Grazie.